salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con xtb live news il mio nome è walid kudmani e sono specialista di mercato in questo appuntamento andremo a parlare degli eventi principali avvenuti nei mercati asiatici durante la notte l'apertura del mercato americano e gli eventi principali avvenuti in mattinata e quelli da tenere d'occhio andando avanti oggi in giornata oggi è mercoledì 27 gennaio 2021 abbiamo avuto un paio di giorni abbastanza movimentati sui mercati con ieri l'S&P e gli indici americani che hanno chiuso in calo anche il dow jones e il nasdaq nonostante le performance buone di alcuni titoli dentro a questi indici anche i mercati asiatici hanno chiuso in calo anche quello australiano in calo di circa lo 0,65% mentre il cospi e il nikkei anche hanno avuto qualche difficoltà la banca centrale europea oggi è in attesa della decisione della banca centrale americana alle 8 di sera quindi le banche centrali tendono a comunque guardare le politiche delle altre banche centrali principali per vedere un attimo se bisogna adeguare le proprie anche e questo è tutto legato alla debolezza recente del dollaro che oggi è stata leggermente recuperata ma la tendenza comunque abbastanza negativa il rapporto api di ieri sul petrolio ha indicato un calo di 5,27 milioni di barili nelle scorte di petrolio mentre invece era previsto un calo un aumento di 0,6 milioni di barili quindi 600.000 barili oggi il rapporto ea che verrà rilasciato nel pomeriggio bisognerà andare a vedere se confermerà o meno questa stima del rapporto api ieri privato nel frattempo se quando si parla di rapporti abbiamo avuto il rapporto degli utili di microsoft una delle big tech ovviamente compagnie più importante al mondo grande attore nell'indice tecnologico us 100 quindi nasdaq e sono stati migliori del previsto con un utile operazione di 2 dollari e 3 mentre invece era previsto un utile operazioni di 1,64 abbiamo comunque l'apertura del mercato oggi è stata abbastanza mista con materie prime agricole e petrolio in rialzo mentre i metalli preziosi sono si sono ritirati leggermente tra poco andremo a vedere anche i grafici come potete vedere sullo schermo ma questi sono stati gli eventi principali stamattina sterlina euro e dollaro sono state le valute principali con le migliori prestazioni mentre invece il cad e il dollaro neozelandese sono state le peggiori da un punto di vista di notizie di pandemia la situazione della pandemia comunque rimane abbastanza negativa con il numero totale di casi di coronavirus che ha superato i 100 milioni questa settimana il numero di casi di decessi nel regno unito ha superato i 100 mila e ovviamente per un paese europeo è stato il più alto raggiunto andiamo adesso a parlare un attimo degli eventi principali da tenere d'occhio oggi prima del mercato americano e dell'apertura del mercato americano ma anche andando avanti durante la sessione incominciamo con il rapporto del dipartimento dell'energia americano sulle scorte di petroli che verrà rilasciato alle 4 e mezzo come accennato quello dell'api ha mostrato un calo molto significativo rispetto alle stime e sicuramente il rapporto di oggi potrà andare a impattare i prezzi del petrolio a seconda di quello che succede oltre a questo abbiamo la decisione sul tasso di riferimento della fed quindi dell'fomc negli stati uniti alle 8 quindi sicuramente sarà un evento da tenere d'occhio anche per trader di valute di indici comunque qualsiasi cosa a che fare con gli stati uniti che è l'economia principale parlando di stati uniti degli stati uniti e economia principale abbiamo gli utili da alcune delle big tech quindi delle compagnie più grandi negli stati uniti nell'indice del nasdaq particolarmente abbiamo dopo la chiusura del mercato il rapporto da apple facebook e tesla oltre che al rapporto da boeing che sebbene non sia una delle società come quelle comunque una società molto importante e specialmente dal punto di vista della pandemia è stata impattata molto dalle chiusure e dai lockdown andiamo un attimo a vedere uno sguardo ai grafici qui abbiamo il dax quindi l'indice tedesco che ha iniziato la giornata molto negativo dopo qualche movimento laterale a penenzia dalla sessione abbiamo visto questo grande calo e soprattutto adesso in calo di oltre il 2,25 per cento l'indice è riuscito a rimbalzare comunque su questo livello di 13.580 che ha agito da supporto area di reazione di prezzi passato e sicuramente sarà interessante vedere con il proseguire dalla sessione europea e l'apertura della sessione americana come si andrà a muovere anche l'indice tedesco principale gli altri indici europei simile performance quindi abbiamo il footsmib di milano il cac 40 francese e il mib inglese comunque tutti quanti hanno ecco questa persona questa performance mentre invece una cosa abbastanza sorprendente perché gli indici sono in calo ma anche i metalli preziosi sono in calo questo calo dell'oro che adesso si trova a 1841 dollari sotto questo livello abbastanza testato e qualche segno di recupero adesso però questa questa zona sarà importante a tenere d'occhio perché se dovesse essere altre oltrepassata comunque abbiamo diverse zone da tenere d'occhio il prezzo si trova adesso sotto la nuvola di shimoku sul grafico orario quindi la tendenza comunque è impattata anche da questo e andando avanti bisognerà vedere la forza del dollaro e come impatterà anche i prezzi dell'oro e dei metalli preziosi per quanto riguarda il petrolio il brand che in calo leggermente oggi di circa quasi il meno dell'un per cento ma si trova adesso a testare diverse medie mobili quindi la mediamo per 100 200 oltre che ha il limite superiore della nuvola di shimoku sul grafico orario quindi questo e il rapporto che dovrà essere rilasciato le quattro e mezzo sicuramente sarà un mercato importante a tenere d'occhio il WTI stessa cosa adesso il prezzo sta testando ha oltrepassato le medie mobili ma sta testando il limite superiore della nuvola di shimoku avendo rotto dentro e come potete vedere questa candela arrivata quasi al limite inferiore sarà sicuramente interessante l'indice del volatilità e ai livelli più alti in diversi giorni quindi dalla fine dell'anno quasi grazie a questi movimenti che abbiamo visto la settimana sul sui indici generali indici statunitensi prima dell'apertura possiamo vedere che comunque sono anche essi in calo anche se hanno stabilizzato sotto queste medie mobili questo è il s&p 500 che si trova intorno e sotto ai 3800 punti lo s 100 che si ritira dal massimo storico di circa quindi in circa l'1,70 80 per cento e andiamo un attimo vedere le valute principali l'euro dollaro che scende a livello più basso in oltre in un'altra settimana si trova intorno a 1 21 proprio toccando il l'are sai è molto diminuito rispetto a ieri e l'indice del dollaro come possiamo vedere è in aumento in rialzo a livello più alto in diversi giorni anche se diamo un attimo sguardo qui per poter vedere proprio la distribuzione delle valute e quali sono le valute che stanno performando meglio come possiamo vedere il dollaro in rialzo rispetto a tutte le altre valute sia minori che maggiori che di mercati emergenti e anche di valute rifugio l'euro performance abbastanza buona anche simile tranne come potete vedere in difficoltà contro il dollaro il franco svizzero lo yen e la sterlina che è quasi pari sterlina stessa storia tranne che l'euro e il franco invece che ha in difficoltà contro il dollaro quindi questi sono gli eventi principali di oggi grazie per essere stati con noi grazie per averci seguito alla prossima il mio nome è walid kudmani buon trading